buongiorno e benvenuti a questo video tutorial dedicato all'ambiente di condivisione dei dati BIM in cloud realizzato grazie a Autodesk Docs il modulo di base della nuova piattaforma Autodesk Construction Cloud sicuramente molti di voi avranno sentito parlare della piattaforma Autodesk BIM 360 bene nel febbraio del 2021 ha fatto un grande passo in avanti ed ha assunto il nome di Autodesk Construction Cloud la nuova piattaforma garantisce naturalmente la piena compatibilità con BIM 360 quindi tutto quello che è stato realizzato con BIM 360 può continuare a essere aggiornato con Construction Cloud viene garantito di nuovo spazio illimitato e numero di progetti illimitati è già disponibile sui server europei supporta le norme ISO 19650 e la norma italiana UNI 11337 permette la piena collaborazione tra i progettisti, le imprese e i fornitori diminuisce gli errori e i varianti migliora il controllo sul progetto e aumenta la sicurezza dei dati bene oggi ci occupiamo dell'ambiente di condivisione dei dati introdotto nel mondo BIM dalle norme anglosassoni con il nome di Common Data Environment o CDE l'ambiente di condivisione dei dati viene definito dalla norma UNI la norma 11337 italiana questa norma richiede che l'ambiente di condivisione dei dati garantisca l'accessibilità di tutti gli attori coinvolti la tracciabilità delle revisioni il supporto di un'ampia gamma di formati dati la facilità di accesso e la disponibilità di flussi di interrogazione la conservazione dei dati nel tempo la riservatezza e la sicurezza bene ora vedremo come la normativa viene pienamente soddisfatta costruendo un ambiente di condivisione dei dati con Autodesk DOPS prima di tutto il supporto di un'ampia gamma di formati dati ecco li vediamo sono numerosissimi vengono supportati praticamente tutti i formati correntemente utilizzati in campo BIM dal DVG di Autodesk utilizzato anche da Civil 3D al formato RVT di Revit al formato indipendente IFC a quello di Navisworks per non parlare dei formati per i documenti pdf xls doc ppt e quello per i media cioè jpeg png naturalmente supporto significa la possibilità di caricare i dati ma anche di visualizzarli e interrogarli accessibilità ovunque in qualsiasi momento ovvero l'accessibilità di tutti gli attori coinvolti come potete vedere l'accesso ai dati avviene attraverso dei browser di internet e quindi possiamo accedere da pc da ipad da smartphone quindi siamo indifferenti al sistema operativo possiamo accedere da windows da mac da android inoltre ogni attore viene aggiunto al progetto con dei diritti di accesso adeguati al suo ruolo per accedere deve eseguire un login sicuro su server europei ridontanti quindi tutte queste cose garantiscono anche un'altra esigenza che è quella della riservatezza e della sicurezza facilità d'accesso e flussi di interrogazione ve lo mostriamo con un video dove appunto vediamo dal browser accediamo al modello lo possiamo visualizzare in tre dimensioni e possiamo navigare nel progetto come nella vita reale possiamo camminare letteralmente all'interno del progetto possiamo comprendere la struttura del progetto isolando i piani no in questo modo e magari nascondendo ad esempio le solette piuttosto che gli impianti possiamo concentrarci sugli oggetti che ci interessano come i muri e porte le scale le solette e così via e visualizzarle in maniera molto efficace vi ricordo che stiamo accedendo da un semplice browser possiamo creare sezioni in tempo reale del nostro modello a piacere in maniera molto dinamica come è possibile vedere possiamo combinare i contenuti delle tavole 2d con il modello 3d ecco dalla tavola di planimetria possiamo elevare i muri o comunque delle parti del modello tridimensionale allo stesso modo possiamo andare in sezione e vedere i contenuti delle tavole di sezione quindi tutte le etichette che ci danno sicuramente un sacco di informazioni possiamo misurare in 2d in 3d compiere misure lineari calcolare superfici contare gli oggetti e così via possiamo usare la struttura BIM del modello per trovare degli oggetti ad esempio tutte le porte vedete abbiamo evidenzato tutte le porte perché dobbiamo parlare con il fornitore oppure possiamo usare delle informazioni ad esempio 300 mm andiamo a vedere tutte le solette che hanno questa caratteristica una volta individuato l'oggetto che ci interessa naturalmente possiamo andare a vedere tutte le informazioni geometriche di materiale e così via eccoci alla conservazione dei dati nel tempo e dalla tracciabilità delle revisioni lo vediamo anche in questo caso con un video accediamo al progetto nel browser e come è possibile vedere viene mantenuto tutto lo storico delle versioni dei modelli o dei documenti qua abbiamo tre versioni del nostro modello e quando andiamo ad aprirne uno possiamo andare a compararlo con la versione precedente o successiva vedete attraverso degli appositi colori possiamo andare a visualizzare cosa è stato modificato cosa è stato aggiunto cosa è stato cancellato naturalmente la stessa cosa la possiamo fare anche sulle tavole 2d quindi andare a vedere complessivamente che cosa è stato modificato o aggiunto o cancellato e poi possiamo andare a vedere anche per il singolo oggetto quali sono state le modifiche che l'hanno interessato bene eh abbiamo visto molto velocemente come è possibile costruire un ambiente di condivisione dati e rispondere a tutte le esigenze della normativa eh iniziare è facile eh perché perché da febbraio del duemilaventuno una licenza di autodesk docs è stata resa disponibile gratuitamente all'interno della soluzione che autodesk propone per la progettazione BIM ovvero la autodesk IC collection che contiene tutti i software per l'architettura l'ingegneria e le costruzioni vi ricordo che autodesk construction cloud comprende diversi moduli eh abbiamo naturalmente autodesk docs che abbiamo appena visto per la costruzione dell'ambiente di condivisione dei dati e che quindi eh coinvolge tutti i membri del team di lavoro ed è compreso in tutti i moduli successivi ma abbiamo anche BIM collaborate per il coordinamento del progetto quindi eh di poter lavorare con modelli condivisi in cloud con Revit con Civil 3D e con Plan 3D abbiamo Build che è dedicato al cantiere e quindi per le imprese di costruzione e direttori lavori ed infine abbiamo autodesk take off per il computo metrico. Grazie per l'attenzione e buon lavoro con autodesk docs e l'ambiente di condivisione dei dati.